Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Glorioso San Gaspare Bertoni, con umiltà e devozione ci rivolgiamo a te, che sei stato esempio di santità e dedizione, al servizio di Dio e dei fratelli. La tua vita, segnata dall'amore per Cristo, e dalla passione per l'educazione dei giovani, illumina il nostro cammino, e ci ispira a seguire le tue orme, con cuore puro e fede incrollabile. Tu che hai fondato la Congregazione delle Sacre Stimmate di nostro Signore Gesù Cristo, infondici lo stesso zelo e lo stesso ardore missionario, che hanno guidato ogni tuo passo. Aiutaci a vedere Cristo, nei volti di coloro che incontriamo ogni giorno, specialmente nei più bisognosi e negli emarginati. Donaci la tua stessa compassione e il tuo coraggio, nel portare la luce del Vangelo nelle tenebre del mondo. San Gaspare. Intercedi per noi. Affinché. Possiamo essere strumenti di pace e di riconciliazione. Proprio come tu hai cercato di essere. In un'epoca di grandi conflitti. Prega per noi. Affinché. Possiamo avere la saggezza. Di educare le nuove generazioni. Non solo con il sapere umano. Ma anche con i valori eterni del Vangelo. Formando giovani che siano luci brillanti nella società. Ti chiediamo di sostenere con la tua preghiera. Tutte le opere educative e missionarie degli stimmatini. Affinché possano continuare a diffondere la fede. La speranza e l'amore. Proteggi e guida i sacerdoti. Il religioso e il laici che. Seguendo il tuo esempio. Dedicano la loro vita al servizio del prossimo. San Gaspare Bertoni. Uomo di preghiera e di azione. Ottienici la grazia. Di vivere ogni giorno. Con la stessa dedizione e amore. Che hanno caratterizzato la tua vita. Fa che possiamo. Come te. Essere testimoni autentici dell'amore di Dio nel mondo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli. Si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debituri. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.